artigian cassa punta sull'innovazione per un credito a misura di piccole imprese la denuncia dei confidi artigiani il credit crunch morde ancora gli imprenditori il fisco si piega alla crisi via libera ai correttivi per gli studi di settore che diventeranno più semplici al via la maratona teleton conf artigianato protagonista con le sciarpe due volte buone in arrivo semplificazioni per la gestione di terre e rocce da scavo buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il tg di conf artigianato nuovi prodotti finanziari all'insegna dell'innovazione digitale artigian cassa lancia il piano industriale dei prossimi quattro anni con un buchè di offerte per soddisfare le esigenze più sofisticate degli artigiani e delle piccole imprese sentiamo le novità nel servizio di lorenza manessi parola d'ordine innovazione artigian cassa punta tutto su digitale e tecnologia per stare al passo con le nuove esigenze di credito dei piccoli imprenditori forte di 60 anni di attività al fianco degli artigiani è pronta ad accompagnarli nel futuro con un programma all'insegna delle novità che è scritto nero su bianco nel piano industriale per i prossimi quattro anni varato il 9 dicembre dal consiglio di amministrazione fabio banti presidente di artigian cassa non nasconde l'orgoglio per i risultati conseguiti dalla banca che dal 2009 negli oltre mille artigian cassa point in tutta italia ha gestito più di 105 mila pratiche di finanziamento e ha erogato alle imprese una cifra che supera i 900 milioni di euro ma si può fare di più ed ecco allora il piano per i prossimi quattro anni saremo altamente innovativi quindi saremo la prima banca digitale credo a livello europeo il modello degli artigian cassa point non esiste in un altro nessun altro paese in europa quindi siamo anche primi in questo senso e questo ci permetterà ovviamente di dare dei vantaggi assoluti sia alle associazioni che rappresentano le imprese artigiane ma soprattutto agli imprenditori qui progettiamo coprogettiamo proprio con le con le imprese e coprogettando con loro cercheremo di fare il massimo per dare delle risposte adeguate all'impresa tra le novità decise il 9 dicembre dal board di artigian cassa c'è anche la nomina di francesco simone a direttore generale una scelta hanno commentato il presidente il segretario generale di conf artigianato che premia la competenza e la sensibilità verso le esigenze creditizie dei piccoli imprenditori mostrate in questi anni da francesco simone nei suoi incarichi prima di direttore commerciale e poi di vice direttore generale di artigian cassa e ora toccherà a lui dare gambe al programma di lavoro per il quadriennio 2016 2020 artigian cassa ai tempi di internet scommette su velocità trasparenza prodotti tagliati su misura per le piccole imprese oggi l'artigiano è anche chi costruisce lo stesso materiale attraverso la stampante 3d oppure che fa diciamo presso un'attività diciamo di incubatore l'attività del digitale quindi oggi l'artigianato deve essere affrontato con una logica molto più ampia e molto più diciamo customizzata in funzione delle esigenze quindi noi attraverso questo approccio dobbiamo fornire dei servizi assolutamente innovativi e digitali per rispondere alle esigenze delle imprese attraverso la realizzazione di app che possono servire all'impresa artigiana per poter fidelizzare la propria clientela oppure ad esempio per poter fare delle delle attività di consulenza per la realizzazione di un business plan per poi avere i servizi aggiungativi che artigian cassa tra l'altro gestisce faccio un ultimo esempio per capire come artigian cassa può aiutare il mondo associativo il mondo dei confidi e quindi di conseguenza le imprese associate anche attraverso magari un'attività di advisor illegale per i momenti difficili che l'impresa può anche attraversare mentre artigian cassa presenta il programma di attività dei prossimi quattro anni i consorzi fidi fotografano la situazione del credito delle piccole imprese che risente ancora dei contraccolpi della crisi fed art fidi la federazione dei confidi artigiani guidata dal presidente ad elio ferrari e alla quale aderisce conf artigianato nell'annuale rapporto presentato a roma il 9 dicembre mostra una riduzione dei nuovi finanziamenti garantiti alle imprese 4,6 miliardi nel 2014 rispetto ai 5,2 miliardi del 2013 si mantiene comunque inalterata la fiducia nei confidi artigiani da parte delle 742 mila imprese associate che apprezzano i servizi e la consulenza offerti presso le 1300 sedi territoriali tra le proposte indicate da fedart fidi la riforma del fondo centrale di garanzia e una maggiore sinergia tra tutte le componenti della filiera del credito anche per il 2015 gli studi di settore terranno conto delle difficoltà vissute dagli imprenditori e si apre la strada della semplificazione ecco le novità sollecitate da conf artigianato e recepite dalla commissione di esperti sulla validazione degli studi gli effetti della crisi economica si sentono ancora e allora il fisco si adegua e anche per il 2015 verranno applicati agli studi di settore quei correttivi congiunturali capaci di leggere la reale situazione degli imprenditori nelle loro diverse specificità settoriali e di territorio il via libera i correttivi anticrisi è arrivato dalla commissione degli esperti riunitasi il 2 dicembre con la presenza degli esponenti di conf artigianato e delle altre sigle imprenditoriali e dei vertici dell'amministrazione finanziaria tra le novità emerse durante la riunione c'è anche l'accelerazione dei tempi di approvazione dei correttivi stavolta dovrebbero essere presentati il prossimo mese di marzo per anticipare ad aprile il rilascio del software gerico in tempo utile per calcolare quanto dovuto al fisco con le dichiarazioni dei redditi di luglio ma i correttivi non bastano a dissipare le preoccupazioni degli imprenditori alle prese con adempimenti fiscali sempre troppo complicati così conf artigianato ha insistito per una drastica semplificazione dei modelli degli studi di settore l'esigenza è quella di ridurre la mole di dati e informazioni richieste per la compilazione degli studi la proposta di conf artigianato ha fatto breccio nella commissione aprendo la prospettiva di uno snellimento dei moduli già con gli studi di settore per l'anno 2015 l'altra novità emersa dalla riunione riguarda gli indicatori di coerenza degli studi conf artigianato e rete imprese italia hanno incassato l'impegno della commissione a superare le criticità emerse nell'applicazione di tre indici relativi al valore aggiunto per addetto al margine per addetto non dipendente e alla copertura dei beni di terzi e degli ammortamenti introdotti dall'agenzia delle entrate per ridurre il numero di beneficiari del regime premiale questi indicatori ormai non riescono a cogliere gli effetti della crisi sulle imprese e restituiscono spesso risultati poco attendibili dal 13 al 20 dicembre torna l'appuntamento con la maratona della fondazione teleton nelle piazze e nei programmi televisivi rai si svolgerà la gara di solidarietà che ha come simbolo le sciarpe prodotte per il terzo anno consecutivo in italia da una rete di 11 imprese artigiane della compartigianato imprese veneto sciarpe due volte buone quindi perché con le donazioni si contribuisce a un importante progetto di ricerca medica dedicato in particolare ai bambini e perché la scelta di teleton contiene un chiaro messaggio di speranza è possibile rivitalizzare il manifatturiero italiano e tornare a produrre nel nostro paese ottimi motivi quindi per contribuire alla maratona di raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare promossa appunto dalla fondazione teleton un impegno che da molti anni vede compartigianato in prima linea insieme con artigian cassa quest'anno il messaggio della campagna teleton è hashtag non mi arrendo perché insieme siamo più forti della malattia le donazioni possono essere effettuate sul conto corrente che vedete in sovraimpressione i contributi serviranno a sostenere il progetto di ricerca dell'equip della dottoressa maria pia passafaro dell'istituto di neuroscienze del cnr di milano sulle gravi forme di disabilità intellettiva non sindromica legata al cromosoma x sono in arrivo buone notizie per le imprese di costruzione il governo ha varato un decreto che semplifica gli adempimenti per la gestione delle terre e rocce da scavo e ha lanciato una consultazione pubblica aperta fino al 19 dicembre per raccogliere ulteriori suggerimenti dagli imprenditori lorenza manessi per anni sono state l'incubo degli imprenditori del settore costruzioni se esistesse un premio per le leggi più complicate d'italia quelle su come gestire le terre e rocce da scavo lo conquisterebbe senza fatica al centro dei ripetuti interventi normativi di questi anni c'è la questione se considerare rifiuti i materiali che risultano dalle opere di sbancamento effettuate dalle imprese edili sull'impatto ambientale di terre e rocce da scavo sulla loro gestione e smaltimento il governo e il parlamento hanno scritto fiumi di inchiostro che si sono tradotti in una serie di burocratici e costosi adempimenti a carico degli imprenditori poi nel 2012 arriva una novità importante conquistata grazie anche alle battaglie condotte da ana epa con fartigianato edilizia la nuova legge stabilisce che il materiale da scavo non è più considerato rifiuto e smaltito come tale ma sottoprodotto e pertanto può essere riutilizzato ma rimangono in piedi una serie di norme per reimpiegare i materiali provenienti dai cantieri che continuano ad essere troppo costose e complicate per i piccoli imprenditori ora le cose però potrebbero cambiare il governo con un decreto approvato a novembre ha finalmente deciso di mettere ordine nella babele di leggi e leggine che regolano la materia si tratta di un decreto del presidente della repubblica sul regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo l'obiettivo è quello di snellire tutte le norme vigenti riducendole ad un unico testo integrato autosufficiente e coerente tra le novità positive proposte dal governo l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente per ogni trasporto di materiale dopo il via libera del governo al decreto di riordino il ministero dell'ambiente ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di regolamentazione che si concluderà il 19 dicembre entro quella data chiunque può dire la sua e suggerire ulteriori semplificazioni conclusa la consultazione e prima che il decreto entri in vigore il ministro dell'ambiente può pubblicare eventuali contro deduzioni confartigianato edilizia ha predisposto una serie di osservazioni per liberare i piccoli imprenditori delle costruzioni da obblighi e adempimenti in particolare riguardano i tempi di utilizzo dei materiali depositati il numero di clienti ai quali comunicare l'uso dei materiali l'esclusione dei micro e piccoli cantieri dall'applicazione della normativa Torino 16 dicembre strategie per l'innovazione confartigianato piemonte organizza la settima edizione della conferenza concerto che coinvolge esperti di banche finanza e politiche aziendali rappresentanti delle istituzioni e affermati musicisti jazz in chiusura vediamo insieme qual è il numero scoperto questa settimana dai nostri amici dell'ufficio studi di confartigianato nella rubrica il numero della settimana 4.222.442 è il numero delle piccole imprese fino a 20 addetti che operano in Italia pari al 98,3% del totale delle aziende è tutto l'appuntamento come sempre per lunedì prossimo alla stessa ora sul sito di confartigianato e sul nostro canale youtube buona settimana e buon lavoro Grazie a tutti